...i sottosegretari alla guerra, numerose personalità politiche e militari, tutti i partecipanti ai campionati mondiali di tiro a segno, al poligono della Farnesina, dopo la messa al campo sono stati benedetti i labari delle sezioni di tiro d'Italia. A chiusura della suggestiva cerimonia, Su'Eccellenza Baistrocchi consegna le medaglie di benemerenza. Grazie a tutti.